Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Lo sguardo di Gesù è professia. Mi guarda e vede in me un tesoro sepolto. Nel mio inverno vedi grano che matura e strade nel sole. Nei suoi occhi vedo per me la luce di orizzonti più grandi. Una melodia che non motivo, fammi di nascere. E mi dice, seguimi. Quattro pescatori scoprono da avere dentro non le rotte del lago o la strada di casa, ma la mappa del cielo, del mondo, del cuore dell'uomo. E' la conversione. E seguono Gesù, senza sapere dove. E neppure se lo chiedono. Hanno scoperto le strade del mondo nel cuore di Dio. E tanto basta. Gesù camminava per la Galilea, passava libero e regale fra le cose, e guariva la vita, mostrando che la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore. Allora ti seguirò, Gesù, perché ti lascio dietro niente altro che luce. Come i tuoi quattro amici lascio le barche e le piccole rette per qualcosa di più grande. Mi prenderò cura di chi cerca e soffre ed è solo. E poi, più di ogni cosa, custodirò il mio cuore, anche le sue parti più fragili e malate, perché da esso escatturisce la vita. Grazie a tutti.